Io sono Maurizio Rezzani, direttore dell'esercizio e sviluppo della Lamborghini e ora vi introducerò il nuovo Lamborghini Huracan 610-4. Iniziamo dal motore che è l'esercizio del nostro auto. Abbiamo un motore V10 5.2 litri naturalmente aspirato, che può erogare 610 horsepower e un grande aumento del torque di 5.000 a 8.000 rpm. Inoltre, con l'esercizio, c'è una nuova Lamborghini doppia frizione che è la prima introduzione del doppio claccio di Lamborghini che, con la 7-speed, permette ai nostri driver di raggiungere tutte le esperienze, da un'attività di comfort a una attività più extrema. Inoltre il sistema 4-wheel drive, abbiamo una nuova generazione Aldex 4 che può trasferire via l'elettronica e l'hydraulica di gestione fino al 50% del torque in fronte e arrivano al massimo del 100% in fronte. Ciò che è importante è anche quello che abbiamo fatto nella suspensione. Per la prima volta abbiamo il sistema Magneride in suspensione e questo è compilato con l'unico con l'attività di gestione adattivo che è la prima usata nella super sport del mondo. Tutto questo è gestito e gestito dalla piattaforma inerziale di Lamborghini. È un sistema completamente nuovo che, due a 3 accelerometri e 3 giroscopi posizionati nel centro della gravità è potuto capire tutto il movimento del carro e per dare in real-time, via flex rail, tutte le informazioni a questo sistema. Ma ciò che è importante è anche la struttura del carro. Per questa settimana abbiamo fatto un nuovo chassi completamente nuovo che è un mix migliore tra fibra di carbone e alluminio dove abbiamo messo il materiale giusto in giusto in un'attività di 50% in rispetto al precedente con una riduzione di 10% della gravità. Un'altra cosa importante del carro è relacionata con la interfaccia humana è l'interior del carro dove abbiamo una nuova ruota che abbiamo completamente ingegnerato basato sulle esperienze e una nuova TFT 12.3 in configurabile combi che i clienti possono usare quello che è necessario da un grande odometro a un mix tra un piccolo odometro e una informazione di navi o un full screen navi dove puoi capire tutte le map della città e le informazioni più dettagli e alla fine tutto questo mix ha dato un nuovo benchmark per una carica super sport con l'accelerazione 0.100 in 3.2 secondi con la velocità di 325 km per l'ora con la velocità di 325 km per l'ora di 325 km per l'ora di 325 km per l'ora